Ciao a tutti amici e ben ritrovati su Carpage nella rubrica Product Review. Oggi continuiamo a parlare di acciaio e parliamo di acciaio sempre made in MA07. MA07 è una ditta italiana, ditta che produce acciaio e produce una linea completa per creare il nostro setup in pesca. Nello specifico oggi andiamo a vedere quelli che sono i Basbar. Basbar, in questo caso da tre canne, ma la linea prodotta da MA07 è composta da tre soluzioni. Il Basbar da due canne che ha una lunghezza di 18,5 cm, poi esiste il tre canne da 34,5 cm e il tre canne XL che ha una misura di 40 cm. Sembra un Basbar come tutti quanti ma ha delle caratteristiche, alcune anche nascoste, degne di nota. Intanto, vabbè, stiamo parlando di un Basbar in acciaio, quindi abbiamo tutte le caratteristiche di longevità che l'acciaio offre. Ma acquistando il Basbar MA07 abbiamo una piacevole scoperta, la diciamo subito. E che è questa? Cioè, il Basbar MA07 porta con sé già gli sganci rapidi. Cosa vuol dire? Vuol dire che con una brugolina, che troverete sicuramente nel momento in cui acquistate il prodotto, basta svitare e all'interno troviamo lo sgancio rapido. Sgancio rapido che andremo ad attaccare al nostro segnalatore acustico e da questo non andremo a staccarlo più. Cioè, nel senso che una volta finita la nostra sessione stacchiamo i nostri segnalatori, li mettiamo da parte e li mettiamo al sicuro. Lo sgancio rapido rimane attaccato, la prossima pescata che andremo a fare, estraiamo i nostri segnalatori dalla nostra borsa, andiamo a posizionarli all'interno del Basbar, giro di brugola e questi sono fermi. Quindi diciamo che con un prodotto già ci portiamo a casa una caratteristica non da poco. Questo logicamente è un plus non da poco che MA07 ha voluto portare i propri prodotti. Nella parte posteriore del nostro Basbar troviamo tre filetti, perché? Perché possiamo montare il nostro Basbar sia sul picchetto centrale, ma anche possiamo posizionarlo su due picchetti laterali. Quindi diciamo un prodotto molto versatile che si presta a questo. Ogni filetto ha il suo spessore in nylon per andare in battuta completa, quindi il nostro picchetto andrà in battuta sul nostro Basbar. Quindi ricapitolando, Basbar di MA07 da due, da tre canne, in versione tre canne small e XL. Un prodotto 100% in acciaio, 100% italiano. È un prodotto che una volta acquistato difficilmente lo si cambierà, perché comunque l'acciaio è per sempre. Amici, con questo è tutto, ci vediamo alla prossima recensione, perché ancora forse qualche prodottino di MA07 nella cassetta ce l'abbiamo. Ci vediamo alla prossima a, ricordatevi, iscrizione e cose varie. Ciao a tutti! Ci vediamo alla prossima a, ricordatevi, iscrizione e revisione a cura di QTSS.